così tutti e due bravi tutti e due bravi tutti e due bravino così basta basta flipperino vieni bravo lui piano no bravo così così molto bene beh come inizio non c'è male due maschi ti hai fatto qualche guaio tu ne hai fatto qualche altro diverso però siamo qui beh questo video lo dedichiamo alle volontarie che ti hanno salvato la vita dall'inizio e cammin facendo e poi lo dedichiamo anche all'addestramento tavi vieni meravissimo senza questo non si potrebbe fare nulla di tutto questo molto bene ragazzi così mi piacete bravo quindi nessuna pettorina ad h nessun prozac niente siamo qua insieme piano eh ragazzi piano così bravo bravo così quindi tu hai morsicato tre volte tu una volta pronti hanno compreso eh come al solito i cani sono cani e voi fate i cani flipperino bravissimo così molto bene molto bene così 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 bravo ok molto bene così bravissimo bravo ciccio così mi piace piano eh piano piano bravi così così vi voglio tutte e due bravi beh insomma insomma dal canile a un campo addestramento questo è una svolta eh flipperino è vero è vero bravo ciccio piano piano tutti e due eh piano così bene ok bravo bravo così bravissimo così bravo bravo flipparello bravo sì bravissimo benissimo ok Tavi Tavi vieni fermo bravo così piano bravo così così mi piacete ragazzi ok questa è la magia dell'addestramento non la mia è la magia dell'addestramento e dobbiamo difenderlo questo patrimonio dell'addestramento lo dobbiamo difendere dalla paracinofilia svedese francese dalla medicina comportamentale perché il prozac non può fare tutto questo davvero ciccio non lo può fare ok questo è il momento più bello della giornata c'è un po' di tensione perché siete due maschi però non succede niente eh ok bravo così poi tu sei l'inizio bravo flipparello bravissimo così tu sei un mito tu sei un mito Tavi ok Tavi Tavi vieni fermo bravo così così piano eh piano 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 bravissimo ok bravi ragazzi sono un fiore di voi no 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 bravo così così oh la perché questo cane qui che a me da gravina non interessa fare interazione con gli altri cani quindi ci penso io a tenere un po' le distanze bravi così molto bene così eccola qui Flipper bravo dai bravo dai su dai 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 che ce la fai su dai bravo così bravissimo così bravo bravo Flipper Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te